Siamo arrivati a dire che il momento a quantità di moto rispetto alla lavagna può essere pensata in una somma di quattro grosse cose, di questi che sono dei riquadri rossi, blu, giallo e bianchi Il riquadro rosso e il riquadro bianco lo scriviamo così, quello bianco cioè è il momento a quantità di moto del sistema rispetto al centro di massa Questo invece è molto interessante E' molto suggestivo Perchè questa qua è proprio l'espressione che avrebbe il momento a quantità di moto di una particella dove l'avevo cancellato L per definizione era r vettor p Oppure potevamo scrivere cosa che ho usato qua come vedete di m r vettor v Quindi questa è la definizione del momento a qualità di moto di una particella e guardate questo, è molto suggestivo questo risultato, questo pezzo qua è il momento a qualità di moto del centro di massa come se fosse una particella, dove si trova una particella? Nella posizione del centro di massa Che massa ha sta fantomatica particella? La massa del sistema E che velocità ha sta particella fantomatica? Vcm Quindi vedete di nuovo in questo teorema che sto per finire, le ultime battute Viene fuori che il centro di massa a questo punto matematico si comporta come se fosse una particella E' proprio il contributo al momento della quantità di moto che uno avrebbe se il centro di massa fosse una particella Solo che il teorema, adesso lo commentiamo quando finito di mostrare che questo pezzo è 0 e questo pezzo è 0 Chiaramente è 0 perché la cosa tra parentesi è 0 Guardate le due cose tra parentesi Quello blu e quello giallo Cominciamo da quello giallo Guardate con attenzione Vediamo se qualcuno Vi do 10 secondi in silenzio Per vedere se qualcuno ha capito cos'è Allora, guardate Se io questo qua l'avessi diviso Vediamo se lo divido per qualcosa Vediamo se lo riconoscete Cioè se io la riscrivo così Qualcuno, coraggio Cos'è questo? Cos'è quello? Quello che ho scritto lì E' la posizione del centro di massa rispetto al centro di massa E quanto è? Qual'è il vettore posizione del centro di massa rispetto al centro di massa? E' il vettore nullo Quindi il numeratore Che è questa roba qua Vale 0 E questo? Stessa cosa Perché se io divido questo Stessa cosa, simile Se io divido questo per m1 più m2 Cos'è questo? Questo è 0 perché Ovviamente questo 0 è diverso da questo 0 Eh? Sono 0 diversi questi qua Questo a fare qua è un 0 diverso da questo 0 qua Perché questo 0 ha la dimensione di una lunghezza Questo 0 ha la dimensione di una velocità Quindi è una velocità nulla Perché cos'è questa roba qua? Cos'è tutto questo? Questo è la velocità del centro di massa rispetto al centro di massa E' il vettore nullo Quindi 1 è il numeratore della posizione del centro di massa rispetto al centro di massa E' il vettore nullo E questo è il numeratore della velocità del centro di massa rispetto al centro di massa Rispetto a me qual'è la mia posizione? E' 0 Qual'è la mia velocità? E' 0 Io sono fermo rispetto a me stesso Sono qua con me stesso Voi vi vedete muovere Ma la velocità di me stesso rispetto a me E' nullo Quindi il teorema si esaurisce qui E' uno dei teoremi più carini E c'è un omologo che sto per farvi Che riguarda l'energia cinetica Che potrei lasciare a voi E vedere chi lo sa fare E magari dare a lui un voto superiore a 27 o 28 Oppure farlo qua con voi E dire quindi chi lo sa ha un voto superiore a 23 Cosa preferite? Che io ve lo lasci o che lo faccio assieme a voi? Ma guardate questo teorema Sta dicendo che il momento Sto sputacchiamo oggi Ma per fortuna la velocità orizzontale Non è molto forte Quindi si limita lo sputacchio a cadere là E non vi arriva Però se fossimo solo l'una magari arriverà Questo mi dice che il momento della quantità di moto rispetto all'origine Può essere scomposti due pezzi Uno è il momento della quantità di moto del centro di massa rispetto all'origine RCM RCM è questo vettore rispetto all'origine Quindi questo qui è il Il momento della quantità di moto del CM Pensata come particella Non voglio descriverlo Rispetto ovviamente all'origine Cioè all'HAB All'HAB Cioè a quest'origine qua No? Vedete perché c'è il vettore Posizione del centro di massa rispetto a quest'origine C'è il vcm che rispetto a quest'origine Più Questo è il momento Della quantità di moto Rispetto al centro di massa Quindi ho scomposto il problema in due problemi Cosa fa il centro di massa E cosa fa il sistema? Attorno al centro di massa Quindi attorno rispetto al A me piace tanto l'espressione Attorno al Però è la stessa cosa Rispetto al centro di massa O attorno al centro di massa Cioè uno Questo vi dice cosa fa il centro di massa Questo vi dice cosa fa il sistema Rispetto al centro di massa Quindi il centro di massa Si sta comportando come se fosse una particella E se qualcuno vi chiede qual è il momento A quantità di moto del centro di massa La scrivete senza tante pippe E' molto immediato La massa del sistema Che moltiplica la posizione del centro di massa La massa per la velocità del centro di massa Ok? O può anche essere così Rcm Prodotto La quantità di moto del sistema Perché la quantità di moto del sistema Cos'era? L'abbiamo fatto un altro giorno E' la massa del sistema per la velocità del centro di massa Cioè portando questo m Qui Portandolo qui La posso scrivere così In soldoni Il centro di massa Veramente si comporta come se fosse una particella Però se la pensate come particella E calcolate il suo contributo Al momento di qualità di moto Vi dà solo una parte Vi dà solo una parte Il restante E' il momento di qualità di moto Attorno al centro di massa La somma di questi due Vi dà quello del laboratorio Questo per il centro di massa Porta una parte Il restante E' il moto attorno al centro di massa D'accordo? Va bene? Quindi forse un esempio Che non voglio soffermarmi adesso Ma un esempio che potrebbe avere in mente E' per esempio Il moto della terra attorno al sole Avete il moto della terra attorno al sole Avete il moto della terra attorno al proprio asse Quindi il moto del centro di massa della terra attorno al sole E' questo Il moto della terra attorno al proprio asse Verrebbe descritto in questo pezzo Quindi Io facendo così Ho il moto del centro E ho il moto attorno al centro D'accordo? Questo descrive il moto del centro Questo descrive il moto protazionale D'accordo? Voglio subito Proprio per inculcare in voi questi passaggi Fare il teorema analogo E vediamo se qualcuno capisce Si saprebbe scrivere il risultato Poi lo dimostriamo Un risultato analogo per l'energia cinetica Quindi sarà così Vediamo se qualcuno Non può declamare il risultato Poi lo ricaviamo insieme Perché non sono un sadico Cioè sono un sadico La misura in cui vi faccio lavorare molto a lezione Poi è un orale L'enunciato è questo L'energia cinetica del sistema Rispetto al laboratorio Come sarà? Guardate questo E provate a immaginare che aspetto avrà Questo è uno studente che sta a sveglio E capisce e cerca di cogliere il gioco Da uno che è molto passivo Come sarà secondo voi? Provate a buttarla giù Abbiate fiducia di voi stessi L'energia cinetica di un sistema Rispetto al laboratorio Sarà scomposto nella somma di due pezzi Attenzione questa è una somma vettoriale Perché questo è un vettore, questo è un vettore Questo è un vettore L'energia cinetica è uno scalare Non è un vettore È una somma ordinaria Ma è una somma di due pezzi Uno è l'analogo di questo E sarà l'espressione dell'energia cinetica Di una particella fantomatica Chiamata il centro di massa E come si scrive l'energia cinetica Di una particella? 1 mezzo mv quadro no? E quindi l'analogo di questo pezzo È un mezzo la massa del sistema Per il modulo quadro di vcm al quadrato Questo è il pezzo che competerebbe A questa fantomatica particella Chiamata centro di massa Si comporta come una particella Di massa ms e ha una velocità vcm Poi però questo da solo Non vi da tutta l'energia cinetica Rispetto all'orbonatorio C'è un altro pezzo E sarà l'energia cinetica del sistema Rispetto al centro di massa Quindi l'enunciato che io voglio dimostrarvi Ha una rassomiglianza molto forte Perché stanno esprimendo un concetto simile Che l'energia cinetica di un sistema È uguale al pezzo che viene dal moto Del centro di massa Più l'energia di movimento cinetica Attorno al centro di massa Questo mi dice Il momento a qualità di moto di un sistema È il momento a qualità di moto del centro di massa Più il momento a qualità di moto Del moto attorno al centro di massa Ok? Notate l'analogia di queste affermazioni Adesso lo dimostriamo E come credete che farò? In un modo molto simile E probabilmente verranno fuori cose simili Con molta pazienza Via Sono teoremi molto semplici Ma con un profondissimo contenuto Io vi chiedo perché è un ottimo ripasso Di un sacco di cinematica Un sacco di fisica Chi sa fare queste dimostrazioni Ha le spalle larghe Chi non le sa fare Ha una comprensione probabilmente Molto superficiale Delle cose che ho fatto finora Quindi l'energia cinetica del laboratorio Del sistema Cos'è l'energia di un sistema? È la somma delle energie cinetiche Delle particelle che compongono il sistema Rispetto al laboratorio Cosa userò? Userò la velocità della particella 1 Quindi qua scrivo 1 mezzo m1 Attenzione V1 Modulo quadro Ma cos'è V1 Modulo quadro? Qual'è il modulo quadro di un vettore? È il prodotto scalare del vettore per se stesso Quindi piuttosto di scriverla così Io la scrivo POMI Ripasso di cos'è il prodotto scalare Il contributo della seconda particella Adesso cosa faccio? Che la velocità Uso la somma vettoriale delle velocità Trasformazione di Galileo a Newton La velocità della particella 1 Può essere pensata come la somma vettoriale Della velocità del centro di massa Più la velocità della particella rispetto al centro di massa La velocità della latina rispetto alla pensilina È uguale alla velocità del treno Più la velocità della latina rispetto al treno Quindi questo qui Io la scrivo 1 mezzo m1 Vcm Più la velocità della latina rispetto al treno Prodotto scalare se stesso Questo che ho scritto finora è la particella 1 Adesso la particella 2 Dovete capire com'è facile generalizzare questo Per n particelle Avrei n addendi di questa fattezza 1 mezzo m iesima particella In questo caso la 2 Per la velocità del centro di massa Più la velocità della iesima latina rispetto al treno In questo caso è la seconda latina Prodotto scalare qua Questo è il prodotto scalare Quindi ho la velocità del treno Più la velocità della seconda latina rispetto al treno E avrei facilmente n Ma non ci sono in questo caso Perchè solo voglio fare 2 Quindi n particelle avrei n di questi Ognuna di questi è fatta in questo modo Quindi ho 4 addendi per la particella 1 Perchè ho questo per questo Più questo per questo Più questo per questo E ho altri 4 là E ho altri 4 per la particella 3 E ho altri 4 per la particella n Ognuna di questi 4 addendi per ogni particella Li scrivo su una riga Esattamente con lo stesso approccio Dall'esercizio del teorema di prima Quindi la prima particella Scrivo, aiutatevi C'è l'1 mezzo dappertutto Mal di schiena Mal di schiena C'è l'm dappertutto Su questi 4 che sto per scrivere M1 Ho v1 per vcm per vcm E' un prodotto scalare Quindi vcm prodotto scalare vcm Poi ho un mezzo m1 Mi sta bene Poi ho vcm prodotto scalare v1' Poi di nuovo un mezzo m1 E passo qua Ho v1 rispetto al centro di massa Per vcm più un mezzo m1 V1' prodotto scalare v1' Passo alla seconda particella Ho fatto giusto? Questa è la prima riga E' quella che va fatta con calma Allora un mezzo m1 dappertutto Bene Poi ho vcm 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 v1' Mi pare del fatto giusto Passo alla seconda riga Cioè alla seconda particella Senza riguardare qua Cambio solo i pedici 1 e 2 Questi gessi ormai C'è un 1 diventa un 2 C'è un vcm non cambio Tale e quale vcm Cambio solo quando ho i pedici Un mezzo questo m2 Vcm prodotto scalare v2 V2' più un mezzo m2 V2' prodotto scalare vcm Più un mezzo m2 v2 prodotto scalare v2' E analogamente avrei la terza riga Nesima riga Di nuovo vado per associazioni Perchè questa è una somma In questo caso di 4 addendi Se avessi n particelle Avrei 4n addendi Ogni particella porta 4 addendi Quindi ho una somma di 4n addendi Ma alcuni possono essere associati Perché hanno in comune qualcosa Proprietà distributiva Queste qua sono in comune Questi due possono essere messi assieme Con la proprietà distributiva Facciamo il rettangolo rosso Non ricordo più il colore usato Questo è giallo C'è il blu da che parte Questo è il blu E questo qua è in bianco Questo qua Posso cancellare qui Tutto questo è uguale Se ho solo due particelle C'è un uguale qui Qua ho un mezzo E ho vcm che sono in comune Quindi questo è un mezzo M1 più m2 Per vcm Pronto a scalare vcm Che può essere scritta così E questo è proprio ms Quindi ho il primo pezzo Quello è l'energia cinetica Rispetto al centro di massa Vedete che è la stessa forma Solo che ho apice, 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 apice Quindi questa qua È l'energia cinetica del sistema Rispetto al centro di massa Questa è l'energia cinetica Del sistema Ma rispetto al centro di massa Non più rispetto al laboratorio E ho l'ultimo pezzo Quindi ho già questo Ho già questo Questo quanto vale? Questo quanto vale? Come vedete ho vcm in comune Questo mezzo, vabbè Ma posso portare l'm1 qua L'm2 qui E questo pezzo qui è un mezzo Vcm Che moltiplica a sinistra D'accordo? E qua ho m1v1' Più m2v2' E questo qui è 0 Perché è 0? Perché è il numeratore Dell'espressione della velocità Del centro di massa Rispetto al centro di massa Ok? Quindi questo è 0 Analogamente qua Perché la m1 Vedete io posso mettere in evidenza così Posso mettere in evidenza A sinistra la vcm Perché c'è un vcm Vcm a destra E a sinistra ho m1 E' lo stesso termine in realtà Perché in fondo il prodotto scalare E' commutativo E' commutativo D'accordo? Cioè questo e questo Sono uguali Ma è il prodotto scalare E' commutativo D'accordo? Quindi questo è 0 pure E' lo stesso motivo E quindi ecco il teorema Quindi questi due teoremi Vedete che in realtà Si ottengono molto velocemente Veramente vi chiedo di saperli fare E' molto distruttivo per voi Saper manipolare i simboli così Dovete imparare un po' di ordine mentale Familiarizzarvi con la notazione Con un sacco di bella cinematica Fatelo, fatelo, fatelo Perché mettete in tasca Una bella pezza del programma Se fate questi passaggi eh Padroneggiateli Ovviamente sforzatevi di capire Quindi abbiamo essenzialmente Questi tre teoremi Due che ho scritto qui E uno che abbiamo fatto l'altro giorno Che era? Che male di schiena Ma di coppia Che era? Allora, ho scritto in due forme Questa Questa e questa Stanno mandando un messaggio molto forte Che il centro di massa Si muove come una particella Che trasporta un metro a quantità di moto Questo Trasporta per definizione Qualità di moto Quindi il centro di massa Questo Questo Il centro di massa Trasporta quantità di moto Trasporta un momento a quantità di moto Trasporta un momento a quantità di moto Trasporta un momento a quantità di moto Trasporta l'energia cinetica Trasporta l'energia cinetica E come il caso si muove? Come la legge di Newton Ma vola F Dove le F Sono le forze esterne perchè le forze interne non cambiano il moto del centro di massa sulle forze esterne cambiano è bellissimo questo risultato questo quadro che sta emergendo io lo trovo estremamente bello il centro di massa veramente si comporta come se fosse particella quindi ha tutte le proprietà dinamiche, cinematiche e dinamiche perchè si parla di dinamica quando si ha la legge di Newton MA uguale F si parla di dinamica stiamo facendo la dinamica dei sistemi ormai non più solo la dinamica dei punti ma dei sistemi ok? quindi il centro di massa si comporta come una particella ha la dinamica di una particella porta quantità di moto, energia cinetica, momento della quantità di moto e di un sistema però porta solo parte dell'energia cinetica perchè c'è anche il moto perchè cosa vuol dire cinetico? vuol dire energia di movimento energia cinetica e energia di movimento l'energia di movimento rispetto al laboratorio un pezzo lo porta a questa particella flattomatica l'altra è l'energia di movimento attorno al centro di massa analogamente qui eccetera quindi quando voi avete una ruota che sta spostandosi immaginate che stia anche rotolando ha due forme di energia cinetica e la somma di queste due daranno l'energia cinetica complessiva perchè di movimento c'è due tipi c'è il movimento del centro di massa ammesso che la ruota sia omogenea quindi il centro di massa coincida col centro c'è il moto del centro di massa che porta energia e c'è il moto attorno al centro di massa che porta pure energia d'accordo? queste sono le cose che faremo prossimamente fatemi vedere che ore sono perchè forse sono andato un po' troppo veloce sono andato pericchio veloce perchè questa dimostrazione è trrrr e poi quando ho finito di dire devo pensare cos'altro fatemi pensare sono andato veramente veloce c'è un bel esempio per parlare del movimento della qualità di moto c'è un bel esempio che sarà veramente uno degli esempi più discussi di radiorali allora immaginate di avere un soffitto dalla quale pende un punto materiale dico punto nel senso che la sua estensione è molto minore della lunghezza del filo siccome non voglio usare la lettera L per non confondere questo filo attenzione questo filo sarà un filo molto speciale sarà un filo cosiddetto filo ideale poi parleremo ancora di fili ideali come no? un filo ideale per me un filo ideale avrà essenzialmente due caratteristiche uno è che la massa del filo è trascurabile rispetto a cosa? rispetto alla massa dell'oggetto quindi sarà massa trascurabile ovviamente dovete sempre essere chiaro trascurabile rispetto a cosa eh? un'altra cosa è che sarà inestensibile inestensibile cosa vuol dire che è inestensibile? vuol dire che non si allunga e non si accorcia quindi quando io prenderò questo oggetto e magari lo porto qui e la lascio andare per il fatto che è inestensibile che tipo di quale sarà la forma della traiettoria? sarà un cerchio un arco di cerchio la distanza della particella dal punto d'attacco non cambiando questo si muove lungo un arco di cerchio non so se questo è un arco di cerchio ok? sarà un arco di cerchio quindi la lunghezza del filo piuttosto di chiamarlo L rischiando di sconfondere con questo permettetemi di chiamarlo R perché è il raggio dell'arco di cerchio va bene? allora facciamo una cosa questo punto qua il punto d'attacco voglio che sia l'origine cioè voglio che sia il punto rispetto alla quale calcoliamo per esempio i momenti torcenti cos'è il momento torcente? il momento torcente è il prodotto vettore tra il vettore posizione del punto d'attacco della forza e la forza quindi quando il corpo è qui per esempio facciamo pure i due posizioni ovvio c'è una forza qua c'è la forza peso dobbiamo ancora discutere con un certo dettaglio la forza peso ma sapete che c'è una forza peso la forza peso sarà una certa freccia che punta in questa direzione forse l'ho fatto troppo lungo per la mia mano quindi questa è la forza peso c'è chiaramente anche qui guardate queste due posizioni qua che è lungo la verticale e questo che non è lungo la verticale ok? quando è lungo la verticale io vi chiedo qual è il momento torcente della forza peso rispetto al punto O il punto d'attacco del filo qual è il momento torcente? cos'è il momento torcente? è R vettore F siccome voi dovete fare il vettore posizione dall'origine al punto d'attacco della forza chi è? facciamolo in coloriva in blu il vettore posizione e in rosso la forza qual è il momento torcente? è il vettore nullo perchè? perchè la freccia blu e la freccia rossa non sono storti eh? questa freccia blu questa freccia blu e questa freccia rossa sono storti qual è il momento torcente nel secondo caso quando è fuori dalla verticale? mi serve sapere la direzione entra o esce dalla lavagna? signorina signorina, d'accordo? l'altra signorina che era distratta che fine è fatta si è addormentata sul banco entra se la particella fosse di qua qua quale sarà la direzione? paraggio esce quindi qua no 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 sono tutti piccoli tau qua entra qua tau esce e qua tau è zero eh? zero cose anzi devo dire questo perchè un studente mi l'ha chiesto poco fa e mi ero ripromesso a dirlo a tutti e stavo dimenticandomi di farlo molto importante questo guardate tau cos'è? è R vettore F quale sono le dimensioni di tau? è una lunghezza per una forza quindi le dimensioni di tau sono una forza cos'è? è una massa per una lunghezza per un tempo alla meno 2 per un'altra lunghezza voilà pensate all'energia cos'è l'energia? per esempio abbiamo discusso l'energia cinetica l'energia cinetica vabbè c'è un mezzo certamente un mezzo non ha dimensioni cosa ha la dimensione di un'energia? è una massa per una lunghezza diviso il tempo al quadrato la stessa cosa hanno le stesse dimensioni ma deve essere molto chiaro che il tau e l'energia sono cose che si hanno le stesse dimensioni ma sono completamente diverse perché tau è un vettore un'energia è un scalare non è un vettore e questo qui non dimenticatelo mai è il modulo quadro della velocità questo è uno scalare non è più un vettore quindi hanno la stessa dimensione in entrambi del sistema internazionale qua avreste chilogrammi metri quadri tempo al meno 2 chilogrammi metri quadri tempo al meno 2 ma sono bestie diverse uno è un vettore l'altro è uno scalare questo qui è una energia e l'energia nel sistema internazionale si misura in Jaul ho scritto in piccolo così alcuni dicono Joule alcuni dicono Jaul il signor Jaul la sua famiglia era in Inghilterra da centinaia di anni lui i suoi avi erano francesi ma da generazioni erano in Inghilterra e la pronuncia inglese è Jaul Joule lo dicono quelli che sono seccati del fatto che Napoleone ha perso a Waterloo siccome hanno vinto gli inglesi si dice Jaul non si dice Joule o Joule ancora peggio no Joule che ha vinto Wellington che ha vinto Wellington non Napoleone non è non è non è se le mie simbattie dove stanno ok quindi queste sono nel sistema internazionale shhh nel sistema internazionale chilogrammi metri quadri secondi alla meno 2 per esempio 10 10 cosa? 10 Joule qua io è un vettore questo ok? noti importanate questo fatto ok torno su cosa volevo dire mi stavo dimenticando quindi questi sono zero zero cosa? non Joule sentite una cosa del genere in una professione alle stesse dimensioni dell'energia pigio il famoso pulsante che apre la botola dentro qua sono i cocodrini ok? molto importante questo fatto no? shhh notate come in questo punto le forze e il vettore non sono storti qua sono storti quindi qua tau entra qua tau esce d'accordo? secondo voi L cosa fa qua? quando tau entra cos'è tau? tau è r vettore f ma questo cos'era? era la derivata di L rispetto al tempo allora facciamo così supponiamo che la particella sia qui e la lasciate andare e lui si sta muovendo così quindi partirà anzi lo facciamo un po' più alto perché voglio che sia chiaro che non ha ancora raggiunto la quota massima parte da questa altezza qua ok? e supponiamo che tutto sia ideale poi vedremo quando discuteremo l'energia potenziale eccetera ci convinceremo che se questo è un pendolo ideale partendo da questo dislivello lui raggiungerà lo stesso punto alla stessa altezza di là questo è cosa che forse avete già sentito quindi guardate lui parte qua questa è la posizione 0 passa per la posizione 1 passa per la posizione 2 passa per la posizione 3 e poi arriverà qua quindi la particella sta muovendosi in senso orario eh? in senso orario in senso orario quindi la velocità in questo punto è un vettore tangente immaginate che questo sia il vettore velocità se volete se volete p perchè b e p sono in fondo paralleli questa è la quantità di moto qual è la direzione di L? r e p o r e v sono storti quindi è perpendicolare alla lavagna entra o esce? veloce! non impieghiamo un'eternità cosa fa? entra quindi qua in questa zona nella posizione 1 abbiamo una cosa interessante che tau entra ed entra anche L qua tau è 0 ed L entra qua qua la tau esce e la L cos'è? entra perchè sta ancora andando in senso orario sta salendo sta facendo così è chiaro? quello che sta dicendo? sia nella posizione 1,2,3 la L sta cosa? entrando ma la tau da entra a 0 esce qua la L entra anche la tau entra qua la L entra ma la tau esce e guardate adesso questa formula qua che DL rispetto al tempo è uguale a tau perchè è uguale a r per f e ragionate cosa sta facendo in 1? in questo dividiamo il tempo in due porzioni uno è la fase discendente l'altro è la fase ascendente quindi nel primo intervallo la particella è ancora a destra la verticale sta scendendo il senso orario poi in un altro intervallo è a sinistra la verticale sta salendo però quindi L è ancora entrante guardate nella fase discendente tau ed L hanno la stessa direzione cosa vi dice questo? scriviamo in forma integrale? in forma integrale posso scrivere così la variazione di L è uguale possiamo farlo nella versione vi ricordate che c'è la famosa storia delle approssimazioni lineari? quindi visto che la L o entra o esch la L entra in tutto questo caso perchè sta girando il senso orario entra nella lavagna quindi chiamiamo la direzione z quella che è perpendicolare alla lavagna va bene? se questa la facciamo in modo di non avere z negative quindi se io faccio xy così avrei la z perifacciamo così chiamiamo questa la direzione x questa la direzione y e quindi la z entrante va bene? così non ho il fastidioso segno meno la lasse z è nella direzione entrante va bene? quindi se io vi chiedessi di scrivere L la scrivereste così come arrivederci come il modulo di L u di z siete d'accordo? c'è un modulo e c'è la direzione z e L è entrante nella lavagna che ho chiamato la z quindi la z entra perché ho sistemato io xy così ok? quindi la L sta entrando nella lavagna adesso guardate qua quindi se volete io ho solo a che fare con la componente z la scrivo così la scrivo così senza la freccia sopra sto intendendo qui il modulo di L quindi L è un numero che in questo caso è positivo perché è entrante va bene? d'accordo? adesso questo qua se io la scrivo la componente z cos'è la componente z? di questa equazione eccola qua questa nella fase discendente tau entra scriviamo questa qua in questa forma vediamo se qualcuno si scandalizza 5 uguale alla derivata di L z non è la stima lineare la famosa stima lineare quella si o no? si o no? perché non sento un bel si con un accordo o un suonante? invece sento silenzio si o no? questa è la famosa stima lineare cioè la variazione della funzione la variazione della funzione cos'è? della tasca funzione che faccio voi cosa fate? il valore della funzione qui è il valore iniziale più questo che cos'è? più questo questo è la stima il valore vero è questo e questa è la stima e cos'è la stima? è la derivata che è la pendenza di questa retta moltiplicata per questo quindi questo è delta t e la pendenza è la derivata in questo istante d'accordo? allora guardate un attimo sto cercando forse in caso di dire queste cose domani perché in fondo volevo dire domani cioè giovedì non voglio correre però devo non perdere l'opportunità di dirlo se no è tempo perso questi 10 minuti rischio di averli buttati shhh sono molto serio guardate qua nella fase discendente questa è positiva cosa vuol dire? che la L sta aumentando di modulo aumenta di modulo la L è perpendicolare alla lavagna sta entrando perchè sta facendo così in tutto questo moto orario L entra nella fase discendente il modulo di L cosa fa? sta aumentando perchè? perchè la derivata è positiva cosa c'è da ridere? c'è qualcosa da ridere? oh c'è uno spasmo di qualche tipo? sono molto serio nella fase discendente il modulo di L sta aumentando perchè? perchè la derivata ha lo stesso segno è positivo L entra anche tau entra quindi nella fase discendente L sta diventando sempre più lungo l'entrante della lavagna il modulo cresce quando arriva qui cambia la cosa perchè nella fase ascendente L entra ma il tau ha direzione opposta cosa vuol dire? che il modulo di L comincia a diminuire se qua la faticella è ferma perchè devo ancora lasciare la presa la velocità è 0 il momento a qualità è 0 lascio la presa cosa succede? c'è un momento torcente entrante quindi quella L che è 0 che è il vettore nullo non rimane nullo perchè non rimane nullo? perchè la derivata rispetto al tempo è tau nella misura in cui tau è diverso da 0 la L non mantiene il suo valore del tempo ma cosa fa? aumenta il suo modulo quindi da 0 la L comincia ad entrare sempre di più nella lavagna arriva un valore massimo quando è qui e poi punta sempre dentro la lavagna ma il modulo diminuisce perchè diminuisce nella fase ascendente? perchè tau ha il segno opposto di L quindi la L se quello sta entrando sta cominciando a punta sempre lento ma punta sempre meno finchè non si ferma poi cosa succede? quando si ferma lui si troverà qua con una bella forza così con un grande momento torcente la L che per un istante è 0 rimane 0? no! perchè non rimane 0? perchè la derivata è diverso da 0 porco cane! e la tau esce cosa vuol dire? che quando è arrivato qui e per un attimo il momento della qualità di moto è 0 il vettore è nullo la tau esce quindi la L comincia a crescere cioè la L nuova facciamo così la L in un istante t più delta t è uguale al valore vecchio più tau nell'istante t delta t vedete se tau e L hanno lo stesso segno allora questo ha un modulo più grande se questi hanno segni opposti L è più piccolo quindi quando è qui questo per un attimo è 0 e vuol dire che in un istante successivo la L comincia a uscire dalla lavagna perchè esce? perchè tau esce questo esce e quindi questo esce in un istante successivo cosa succederà? la tau esce la L esce quando sta facendo il giro opposto questo ormai sta uscendo quindi questo esce aggiungete un altro pezzo che esce e avete un vettore che esce che ha un modulo maggiore quindi la L da 0 comincia a crescere da crescere da crescere da fino a questo punto quando supera questo punto avete che la tau entra la L esce la tau entra cosa vuol dire? che al passare del tempo la L si accorcia e si accorcia e si accorcia e si accorcia e si accorcia fino ad essere 0 quando fa e tutto si riferisce ok? L L ci vediamo Giovi ma mi raccomando meditate su questo meditate su questo al di là di come l'ho detto in questi minuti perchè non avevo previsto dirlo oggi lo ridirò giovedì mi raccomando pensate molto attentamente a questa storia qua è stata che mi raccomando mi raccomando mi raccomando mi raccomando mi raccomando